non capendo? no, giuro che non ho mai preso non capendo? 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Facciamo la griglia. faccia senza fascia ok c'è la lucina certa e si vede subito occhio dentro qua vai vai ok 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 scusa scusa non è senza in senza non è 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 senza